Vediamo, andiamo qui, chi c'è? Allora, cominciamo, impressioni della serata. Io sono Starrabele, sono Briaca Fragi. E ve lo dice con un accento toscano. Impressioni su Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio è un mito. E non è finita qui. Non è finita qui perché pure lui ce l'ha il ct, me ne lo do. C'hai un altro ct da regalarmi? No! Allora, sto biglietto della lotteria per favore? C'è? Il biglietto della lotteria per me ce l'avete? Sì, ce l'avete. Vero? Domani passi in un negozio? Sì. Perfetto, domani passi in un negozio e lo prendo. Laura, passi con me, domani prendi il biglietto vincente, facciamo metà. Pagli tutto tu però. Io e io. Esatto, io, io. Ma che lotteria? Che lotteria? Non lo so, allora, loro hanno il negozio e vendono i biglietti della lotteria. E siccome noi ti abbiamo dimenticato stasera, perché dobbiamo dirlo che ti abbiamo dimenticato, porca caccia là, ti regaleremo un biglietto della lotteria. C'è molto gentile. E sarà quello vincente. Non ce l'ho voluto dire. Ma se io sono vincente. Ma certo. Non ti dico che prima vince, è quello che vince il tubo. Non so se conosci un tubo, ma. Un tubo? Un tubo? Perché qui si vince un tubo. Un tubo. Beh, mangiato bene? Buonissimo. Bene, tutta posta, la carne era buona? La ciccia era buona? Alberto, come è stato? Alberto? Bravissimo. Bravissimo. Mi ha contato tutta la sua vita. Bene, domani in diretta, la vita di Alberto sul condominio. Perché? One, two, three. Pira! 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 Allora, aspetta. One, two, three. C'è Fabio che deve fare... Fabio deve fare comunicazioni di servizio. Fabio! Quindi un po' di silenzio. Allora, per domani mattina chi fa i burr? Ecco, a proposito. Ho mandato adesso... Beh, il problema è che ciò che voleva. Per me vuol dire. Io l'ho mai mai faccio gli uomini. Pari, dai. Lascia la capra che sei là fuori, potevo... E vi ho fatto vedere la parte peggiore? No, ai dieci? Allora... Vi illumino d'immenso. No, 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 ma... Allora, il centro di Firenze. Tra Piazza del Duomo e Piazza Signoria. Ce l'hai... Attenzione, ci sono... Guida Michelin, la guida Michelin è all'opera, come è andata la cena? Troppo? Ma senza domani a pranzo, ma sei live? No, non sono live perché qua non c'è un cacchio dell'in, però lo sto registrando e poi lo pubblicherò. Maoletta, tutto bene? T'ho visto che sbattigliavi, t'ho visto. Il vino? Vuoi un bicchiere di vino? E per forza, non prende qua dentro. E ti ricarico dopo, giusto? Ti fai caricare, ti fai caricare. Io riesco a caricare quello che io voglio caricare, perché io posso caricare e io raglio. Allora, ma li distribuiamo? Sì, distribuiamo. Cominciamo la quenta, ma che sono nominativi? Allora, vai, comincia. Gabriella. Gabriella. Cesare, abbiamo un Cesare? Cesare. Stefi. Quale? Adriano. Adriano. Ti dà una mano. Vincenzo. Vincenzo. È sempre contento. Barbara. Barbara. C'è il ritratto di chi il mur là dentro? Francesco. Io voglio giorni dentro. Eh, ma a te te è sempre esagerare. Eh, sì. Ti vado bene io? Sì. Basta, a vedere così, a contento. A me la tua roba. Sì. È tutto. Bianca. Sorriso che può dire se che vuole. Daniela. Daniela quale? Eh, c'è solo il cognome, c'è solo il nome. Vabbè, allora, Daniela. Stasera sì. Stasera sì. È bene. Oddio. Oggi eravamo in quattro. Ma addirittura? Oggi eravamo in quattro. Ma già, c'è anche lei stasera. Attenzione. Attenzione. Che proie. Viola. Viola. Amore. No, no. Sei pina. 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 No, non si dice pina. Si dice pina. Tuo raglio è come una... Sei le parecchie. È simbolia per le tue orecchie, vero? Ma pina ci sei. Paola, 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 Paola. Alberto. Alberto è con l'A. Alberto è un altro che fa se neosservato. Noi no. Aspetta, un momento. I need time. Marco, Marco e Babbo di Veroni. Marco e Babbo di Veroni che viene domani. Non ci sono lì alla domanda. Drone, vai, drone. Grazie. Il drone è con noi. Ecco. Ogni tanto ci sta bene. Uno ha fatto una cosetta, diciamo. Vabbè. Mohamed. Momi. Arrivo. Momi. For you. For toi. Niente. Lì c'è scritto tutto la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie. E' scritto fitto però. E' scritto fitto però. Arriva Laura per il... Daniella. C'è di più di Daniele? Sì, Daniella sì. Daniella. Bravo. Non è roba mia. Daniele. E' il Cramonto di ieri sera, ho rifatto stasera. Daniele. Daniele è qua. Daniele è qua. È lì. Come è Daniele? Come l'hai pensato? Silvana c'è stasera o no? Silvana bella? C'è, c'è. Comunque c'è. Eccola lì. Ugo. Vabbè. Stefania. Un'altra Stefania? Quante Stefania ci abbiamo? Attenzione. Qua mi cogli impreparato. Vabbè. I regali sono distribuiti. Addio Mondo Brudel. Uno.